Ebbene si sta per arrivare in tutte le case dei nostri associati il numero 10 novembre 2020 della nostra rivista. Ovviamente parliamo della rivista Bellunesi nel mondo, ma facciamo una breve panoramica del contenuto del numero 10 del mese di novembre di Bellunesi nel mondo. La copertina in questo caso è dedicata a Papa Luciani ed ecco il titolo che l'accompagna Papa Luciani figlio di emigranti. All'interno troverete proprio uno speciale e il motivo per cui abbiamo dedicato la copertina del numero di novembre di Bellunesi nel mondo proprio a Papa Luciani, il Papa del Sorriso. Ma entriamo all'interno e ovviamente troviamo immediatamente l'articolo di fondo a firma di Dino Brida, autonomie, specificità eccetera, tutte cambiali da onorare. Questo è l'articolo di fondo del direttore responsabile Dino Brida. Vedete anche la nuova giunta regionale da sinistra a Caner, Marcato, Bottacin, Deberti, Zaia, quale presidente della regione Veneto, Lanzarin, Donazzana, Calzavara e Corazzari. La foto del mese invece è dedicata a un omaggio artistico dopo due anni dall'immane catastrofe di Vaia. Ecco un'opera artistica che trovate nell'alto a Gordino sfida l'opera di Valentino Moro. A due anni di distanza da Vaia è stata inaugurata al Belvedere di Colle Santa Lucia sfida l'opera in ferro realizzata appunto a mano dall'artista trevigiano Valentino Moro. Vedete che rappresenta uno degli abetti che è stato distrutto, decimato da Vaia ma come potete vedere è ancora in piedi. Ecco il motivo del titolo sfida. La rubrica belunoradici.net in questo caso a firma di Simone Tormen è dedicata a Breno Bortotta dal Brasile all'Italia nel segno del destino. E ancora andiamo avanti un'intervista a Cristiano Corazzari a tu per tu con il nuovo assessore dei Veneti nel mondo. Belonesi nel mondo ha voluto quindi dedicargli questa intervista che avrete modo di leggere in questa edizione. Per quanto riguarda l'attualità, abitazione da sistemare, buone notizie anche per chi risiede all'estero. Parleremo ovviamente del super bonus 110%, parleremo anche di dati e di statistiche. Casa e Covid, il sogno del mattone diventa un miraggio. Questo è il quesito che ci poniamo in questo articolo. Ma ancora sanità e sociale. Il Covid-19 ha acuito le criticità. Questo per quanto riguarda la sanità e il sociale in provincia di Belluno. Rapporto italiani nel mondo. Sempre dalle pagine di attualità, l'Italia sta continuando a perdere le sue forze più giovani e vitali. Rapporto che è stato presentato pochi giorni fa in videoconferenza. Troverete anche una serie di dati e di tabelle. Riferite appunto al rapporto italiani nel mondo, edizione 2020. Ma dall'immigrazione all'immigrazione, conoscere per comprendere. Un approfondimento a firma di Simone Tormene, dedicato al ventinesimo, al ventinovesimo rapporto, immigrazione 2020, che ha appunto come titolo conoscere per comprendere. Numerose, come sempre, le lettere in redazione, come anche i libri e documenti ricevuti. Rubrica firma di Gio Acchino Bratti, emigranti, affaristi negli Stati Uniti, Beppi, Belumate e la Grande Guerra, studenti a confronto su alcuni grandi temi attuali. Tutti i libri che trovate direttamente anche nel catalogo online della nostra biblioteca, la Biblioteca delle Immigrazioni di Nubuzati. Ed ecco il motivo della foto di copertina dedicata a Papa Luciani. Il Cardinale Parolin ci chiede di sostenerla. Una fondazione nel nome del figlio degli emigranti. E lo stesso Cardinale ci ha proprio scritto. Troverete quindi la lettera che il Cardinale Parolin ha proprio inviato all'Associazione Belonesi nel mondo e a tutti i suoi associati. Un invito quindi a sostenere la Fondazione Vaticana dedicata a Giovanni Paolo I, Albino Luciani, il Papa del Sorriso, Papa Bellunese. Per quanto riguarda la rubrica Curiosità, Carlos Samaria, amico e calzolaio di Papa Francesco, articolo a firma di Ernestina Dallacorte Lucio, ma ancora Piave d'Argento, un premio per promuovere il bellunese. E invece la nostra vice direttrice, Irene Savaris, ha fatto un'intervista a Salvatore di Venezia, nuovo console generale a Curitiba. Ma andiamo avanti, in rovescio della medaglia, altre pagine dedicate alle curiosità, all'avventura del fonzasino padre Antonio Marcon. La rubrica Viaggio nella spiritualità, dedicata a firma, scusate, del diacono Francesco Dalvolso, pone questo titolo, questo tema, Tempo di Fraternità. Britole di storie, la rubrica di Paolo Doglioni, ci porta a scoprire la storia, il vissuto particolare di Tiziano Veceglio, tra i tanti onori, anche la nomina a Conte. Presente, come sempre, la rubrica Foto e Documenti dell'Emigrazione, emigrazione, cartoline di una volta che richiamano alcune zone, in questo caso feltre di un tempo che fu via Tezze, via Mezzaterra, all'inizio del Novecento. Le foto delle emigrazioni invece ci portano a Latina nel 1942 e a Monte Carlo, grazie a una fotografia, in questo caso inviata da Ivette Giauna. Di mese in mese, per zone, raccontiamo quello che è successo, delle principali notizie che riguardano la Gordino, l'Alpago, Ponte, Zoldo, il Bellonese, il Cadore e il Feltrino. Per quanto riguarda invece l'associazionismo MIM e MEI, tra i due musei presto una convenzione, ancora a quote 2021, le famiglie ex emigranti corrono ai ripari. E sempre dall'associazionismo, sempre in questo caso quindi dall'associazione bellonesi nel mondo, cerca il tuo avo, l'ABM emette online una banca dati che trovate nel sito aleteia, centrostudialeteia.it. Per quanto riguarda invece la rubrica bellonesi di cui si parla, Mario Cimarosti, un bellonese ai confini dell'Ase e ancora chi era? John Riva. Un omaggio a John Riva che ci ha lasciato alla fine di luglio, già anche premiato in una edizione del Premio Internazionale Bellonesi che hanno onorato la provincia di Belluno in Italia e all'estero. La rubrica cura di René Savarisse, Belluno Dolomiti, percorsi tra natura, cultura e puntini, puntini, fa un ulteriore approfondimento sulle nostre piccole perle. In questo caso farete, leggendo questo articolo, un viaggio tra Mel, Arsie, Chies, Dal Pago, Querovas, San Gregorio nelle Alpi e Tambre. Giocando con la rubrica cura di Gianluigi Bazzocco, beh, parla di desiderio, voglia, brama e gola. Per quanto riguarda invece la rubrica riflessioni linguistiche a cura di Raffaele De Rosa, se lo saprei lo dicessi, questo è il titolo provocatorio appunto di Raffaele De Rosa. Un'altra rubrica che ci porta nel mondo dello sport a firma di Marco Dincà, Georgia Marchette vince in Coppa del Mondo, la mountain bike parla Feltrino. Come sempre è presente anche la rubrica al nostro dialetto a firma di Gioacchino Bratti con una posia, in questo caso, dialettale dedicata al mese di novembre. I modi de dire e de far sempre in dialetto belunese non possono non mancare le barzellette di Rino Dalfarra, 100% in dialetto belunese. Toccante questa storia di emigranti, una vita in memoria, la storia di Elsa Martini, una storia davvero da leggere con gli occhi e con il cuore, un mondo da scoprire, una rubrica a cura di Simone Tormen che ci porta in Argentina, italiani d'Argentina, una sfilza di nomi famosi. E ovviamente termina questa edizione con il ricordo dei soci che ci hanno lasciato e che è doveroso ricordare. Questa quindi una breve panoramica per quanto riguarda il numero di novembre di belunesi nel mondo che sta per arrivare in tutte le case dei nostri associati. Vi ricordo che potete diventare soci chi non lo fosse ancora dell'Associazione Belunesi del Mondo con la vostra quota oltre a ricevere a cadenza mensile la rivista Belunesi del Mondo sosterrete le molteplici attività della nostra associazione che dal 1966 ininterrottamente ha come missione ovviamente i nostri emigranti belunesi ma anche la loro storia e quanto hanno fatto e realizzato nel passato ma che continuano a fare leggendo i dati che troverete in questa edizione di Belunesi nel Mondo a firma del rapporto italiano nel mondo beh i dati riferiti alla nuova emigrazione sono davvero importanti ed è doveroso fare una riflessione e soprattutto mettere in azione nuovamente il bagaglio che la nostra associazione e l'associazione Belunesi nel Mondo ha maturato e ha raccolto in oltre 55 anni di attività anzi a breve raggiungeremo i 55 anni di attività a inizio del mese di gennaio del 2021 io mi fermo qui buona lettura a chi riceverà la rivista Belunesi nel Mondo un invito a chi invece non la riceve a diventare socio per maggiori informazioni basta visitare il nostro sito www.belunesinelmondo.it info chiocciola belunesinelmondo.it potete anche telefonarci più 39 0437 94 1160 mandare un messaggio via whatsapp al più 39 335 73 75 grazie mille a tutti e rimanete sempre qui con noi vicini e lontani mai soli questo è certo con l'associazione Belunesi nel Mondo